Come si avvia verso la fine del corso? Piuttosto che uccidere quella dell'avversario se si dimentica di giocare la mossa che deve fare. Allora, costruisco una posizione a partire, così vediamo anche un nuovo giosecchi, si parte da qua e bianco invade l'angolo, nero blocco, bianco, nero, bianco, 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 bianco. Bianco da questo Atari perché così almeno divide in due nero e può sempre venire utile. Bianco, 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 bianco. Bianco cattura e poi può darsi che magari il dover connettere, lasciare più vuol dire farsi chiudere, però non so. Fidiamoci, prima questa, poi questa, poi questa, però adesso nero dipende, bianco, nero. E adesso è evidente che bianco deve aggiungere un'altra mossa perché se se lo fa collegare, catturare, ops, succede che questa forma non fa due occhi. Quindi bianco collega qui e nero cattura questa tinta. Cosa succede se bianco esce? L'abbiamo visto in una delle prime lezioni. Nero, bianco, e comunque non riesce ad uscire. Tocca bianco e non ha ragione di aggiungere altre mosse perché già vivo così. Più tardi, quando sarà a fine gioco, ci sono tutta una serie di mosse attorno che nero può giocare in sente. In particolare, cosa succede se si gioca qua? Che non è il modo in cui bisogna iniziare la sequenza di fine gioco, cioè c'è un'altra cosa che normalmente nero fa. Però, prima di vedere quella, cerchiamo di capire cosa succede se nero scende e bianco non fa nulla. La risposta è che nero cattura quel gruppo. Però, perché? Come fa? Non è immediato da vedere. Ci vuole un po' di lettura. Però, dovreste capitarvi, sappiate che se scende nero con quella forma, il gruppo bianco è morto e quindi se bianco siete voi, giocate. Ne va bene quasi tutto. Se bianco è l'altro, cercate di ricordarvi quello che vediamo dopo. Cioè, se nero gioca così, bianco è assolutamente morto. Sì, neanche co proprio morto. Però se bianco gioca è vivo. Se bianco gioca è vivo. Se gioca nero, di nuovo, invece bianco è morto. In realtà poi è abbastanza facile da ricordare. Perché la prima mossa è abbastanza sorprendente e quindi ci si ricorda. Dove l'altra a quel punto può andare solo in un posto. Poi dopo bianco ha delle... Ok, perché era quella più sorprendente bravo. Perfetto, è questo. E adesso bianco se... No, tocca nero. Nero se vuole catturare può giocare di una sola cosa. Questa direi di no, la che fa catturare. Con questa si fa mia di queste due, no? Qui. Tu dici, se bianco gioca qui, io vengo qua e... E' questo non so se vuole riparare... Per cui mi vengo... Non ci sono tantissime, quindi scarterei in 1-1 perchè vale la contromossa perchè ho giocato, ancora in 2-1, anche in 2 dove scartiamo, in 1-2 abbiamo già giocato, per alcuni, ora vogliamo proprio renderla difficile, ma non c'è neanche bisogno poi tra l'altro perchè bianco poco, anche se Nero catturasse questa bianco poco, sono troppi occhi miei, diciamo possiamo riconoscere una forma di gruppo, ipotizzando che questo gruppo qua venga spazzificato, all'interno rimane una forma, se poi possiamo ipotizzare che magari viene giocato questo, diciamo che la forma è questa, se bianco vuole vivere dove gioca, vedo lo stesso punto in cui deve giocare Nero se lo vuole decidere, ok, questa la lasciamo e togliamo l'altra, ok, quindi se nero vuole avere qualche speranza deve giocare Nero, perchè? perchè se bianco dovesse giocare qua, beh, così diventa semplice, no? Atari, niente, basta questo e viene ridotto da forma morta, sì, ma in realtà, anche così dovrebbe essere sufficiente, no? bianco, nero, bianco, cattura, nero, cattura, e l'attari va bianco e quindi bianco, per cui questa risposta non va bene, quello che può fare questo non va bene per via di questa, perchè poi qui c'è di nuovo l'attari, quindi la resistenza più grossa che può fare bianco, ed è quella che quando ci si mette a leggere, alle volte tradisce Nero e giocare qua, che è indicato la resistenza più grossa qui, no? però quello appunto è, e soprattutto impedisce che Nero possa dare attari allora, Nero dovrà giocare qua, perchè se no bianco farà occhio, il problema è che, vabbè, bianco qui no, perchè... non cambia nulla, per cui, non c'è proprio niente per fare, e quella è la sequenza con cui si uccide, prima la mossa sorpresa che è facile ricordarsi, perchè ci si fa catturare una pietra che non sembra che è il modo migliore di iniziare quando si vuole catturare il gruppo, no? posso lo mangiare per vivere? per sperare di vivere? beh, nero, bianco se non vuole, per esempio, può venire qua, no? ok ecco, sì, a quel punto è troppo qui, così, vai troppo qui ecco ecco dai non c'è un'esistenza esattamente quindi mossa sorpresa con la cattura e poi nel punto dell'unità leva a fuori Scusa tu hai detto che qui o qui era mia beh, che era bianco magari sì ma a un certo punto per mio o no, questa è la mossa più dura perchè qui l'abbiamo vista qui, no? non si riesce a collegare è proprio questa comunque questa non è la miglior tecnica di fine gioco è una specie di di mossa tra bocchetto la mossa corretta di fine gioco in realtà è un'altra ed è questa questa bianco nero scende adesso bianco e ora nero può catturare la piedra quindi prima qua è la mossa sì la sequenza giusta di fine gioco non è questa e poi far difendere a bianco per esempio qui perché non si riesce a tenere nulla al massimo si riesce a dare questo 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 e bianco fa cinque punti la sequenza migliore è iniziare dal punto vitale bianco deve venire qua per cercare di fare gli occhi ora nero scende il bianco è costretto a venire qui nero viene qua e bianco non può collegare per cui com'è che andrà a finire andrà a finire se bianco cattura lo mettiamo qua nero può catturare fa un altro punto bianco verrà a fine gioco magari se deve finire gote e anche nero finiscono gote tutte e due quindi contiamolo pure in questo modo sono tre punti per bianco invece che cinque questi si cancellano e quindi ci sono due punti di differenza rispetto alla sequenza quella più ingenua